Essere qui per inaugurare un nuovo spazio messo a norma, fruibile, accogliente, attento alle opere che sono conservate perché chi viene a visitare il museo possa davvero godere, gustare quello che qui si incontra e qui il Signorelli, quindi una figura che è particolarmente cara, poi a Cortona, credo che sia un dono che si vuole fare e che potrà essere molto apprezzato. Un'intera sala dedicata a Luca Signorelli all'interno del Museo Diocesano di Cortona è stata inaugurata nella città etrusca in occasione dei festeggiamenti e delle iniziative per il cinquecentenario dalla morte del pittore. Luca Signorelli è la grazia della invenzione, una collezione che consta di ben 11 opere che erano già conservate in questo museo ormai da 100 anni, ma adesso grazie dei lavori di ristrutturazione ad una migliore illuminazione, le opere saranno leggibili in una maniera decisamente migliore dai visitatori. In fondo di fronte a un'opera d'arte c'è bisogno di poter sostare, apprezzando in un ambiente gradevole tutto quello che l'opera trasmette. Le opere parlano, ma se l'ambiente non consente di sostare, di poter godere di ciò che abbiamo davanti, il messaggio viene spento, viene mortificato. La realizzazione di questa sala che raccoglie queste opere, ripeto, in un ambiente adeguato a ciò che viene proposto, consente di sostare, godere queste opere e raccogliere il loro messaggio.